l'epatite c è un'infezione virale che ha avuto un grosso peso un grosso impatto anche in italia è una problematica diffusa soprattutto nelle persone sopra 50 anni di età che spesso hanno anche comorbidità a volte collegate anche all'infezione stessa e che utilizzano anche terapie concomitanti agli antivirali ne parliamo con il professor Stefano Brillanti buonasera professore che è gastroenterologo ed epatologo dell'azienda ospedaliera universitaria senese allora professore ho introdotto un po' questo tema degli ultracinquantenni ma ci spiega un po' meglio qual è la prevalenza di epatite c di hcv negli over 50 e da cosa è determinata a livello a livello nazionale soprattutto in italia e soprattutto al centro nord e al centro sud il centro in parte un po più risparmiato la prevalenza aumenta con l'aumentare delle decadi di età e quindi al di sopra dei 50 ma maggior ragione al di sopra dei 60 anni la prevalenza in italia la si può stimare dal 2 al 3 per cento della popolazione interessata e che non è poco sicuramente il motivo per cui ci sia un gradiente di positività per anti hcv con l'aumentare dell'età è direttamente collegato con i fattori di rischio della trasmissione di queste infezioni quindi dobbiamo andare indietro nel tempo e cercare di capire perché questo è successo e successo soprattutto diversi anni fa ed è legato all'uso di siringhe non monouso all'uso di trasfusioni di sangue non scrinate prima del 1992 e anche ovviamente all'epoca dell'uso delle sostanze stupefacenti per via indovenosa che era particolarmente che è stato particolarmente diffuso in epoca pre AIDS e quindi negli anni settanta se noi mettiamo insieme queste tre variabili più la trasmissione intrafamiliare possibile all'interno di certi cluster quindi non siringhe non monouso trasfusioni di sangue tossicodipendenza per via indovenosa è chiaro che sono fattori di rischio che si si confinano in 20 30 40 in più di 30 anni fa e quindi giustificano l'aumentata prevalenza che noi riscontriamo nella popolazione over 50 senta professore dicevo appunto che in queste persone questi over 50 si manifestano anche delle altre eh patologie concomitanti eh e che dipendono sono collegate all'epatite C quali sono le principali? Allora eh l'infezione da HCV l'epatite C noi la consideriamo sempre e solo ed esclusivamente una malattia epatica quindi una malattia che interessa il fegato e ci interessa giustamente il suo sviluppo in un'ottica di eh eh cirosi e patocarcinoma scompenso in realtà l'infezione da HCV è qualcosa di estremamente più sistemico eh tant'è vero che eh 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 l'infezione cronica indipendentemente dallo stadio della malattia epatica è a sua volta fattore di rischio di comorbidità HCV relate che interessano l'ambito neuropsichico depressione ansia astenia stanchezza neuropatie sensitivo motorie periferiche legate anche alla crioglobulinemia quindi dermopatie ma direi che la nefropatie crioglobuline negate ma direi che l'aspetto che più interessante che è emerso negli ultimi anni è che l'infezione da HCV rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo del diabete e per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari quindi eh eh curare l'epatite C o meglio curare l'infezione del da HCV non è solo un'opera di prevenzione dello sviluppo della malattia epatica ma è neanche un possibile mezzo e strumento di prevenzione delle complicanze legate all'infezione da HCV tra cui diabete e malattie cardiovascolari e non dimentichiamo che il boom del covid ci ha fatto un po' dimenticare tante altre patologie tra cui appunto l'epatite C ma in Italia esistono ancora almeno duecentocinquantamila forse pazienti che non sono ancora stati trattati e duecentocinquantamila pazienti in gran parte over fifty o di sopra di cinquant'anni che quindi possono tranquillamente associare l'infezione da HCV diabete malattie cardiovascolari più quelle che sono le altre morbidità che possono venire indipendentemente dall'infezione da HCV. Professore se dovesse descriverci questo paziente quindi HCV over cinquanta comorbidità quali sono le caratteristiche principali da mettere in luce e quali anche le criticità che dovete affrontare? Innanzitutto purtroppo il discorso è che come noi tutti sappiamo l'epatite C è una malattia il fegato è un organo silente un organo che soffre in silenzio quindi esiste un problema di stadiare la malattia stadiare la malattia epatica ma soprattutto considerare il paziente nel suo insieme quindi nella sua globalità quindi considera fare un'anamnesi corretta un'anamnesi patologica remota un'anamnesi patologica prossima e soprattutto valutare il percorso le altre patologie che lui ha concomitanti HCV prelate o meno e i farmaci che questo paziente assume spesso sono pazienti in politerapia gli over 50 ma non necessariamente in politerapia gli over 50 abbiamo anche problemi di assunzione degli estroprogestinici nelle donne in età e quindi cioè tener conto che il paziente che noi dobbiamo trattare non dobbiamo essere degli super specialisti con gli occhi solamente orientati verso il problema fegato ma considerare che la malattia da epatite C è una malattia sistemica e quando noi la trattiamo dobbiamo tener conto delle comorbidità ma anche delle politerapie che questi pazienti assumono questi diciamo sono i challenge maggiori che noi oggi abbiamo ovviamente insieme ad una diagnosi corretta da un punto di vista patologico una buona stadiazione dell'epatite una buona genotipizzazione del virus per essere pronti a poter intervenire nel modo migliore a poter intervenire nel modo migliore